Il concetto di cittadinanza non è semplicemente un concetto giuridico. Sento dire che le persone che sono qui lavorano, pagano, hanno il diritto di votare. Non è solo questo. Essere cittadini di uno Stato europeo significa riconoscere che questo Stato europeo ha dei valori delle tradizioni che anche il nuovo cittadino condivide. Regalare la cittadinanza a chi non la chiede, a chi nasce da genitore residente in Italia da cinque anni, da cinque anni, non da una vita, da cinque anni, è assurdo. Vuol dire innanzitutto non credere più nel concetto di cittadinanza, perché significa sostanzialmente regalarla a chiunque. Noi non sappiamo se poi la famiglia da cui nascono questi nuovi cittadini, se saranno cittadini che una volta compiuti magari 18 anni voteranno, si daranno da fare per la comunità, oppure saranno cittadini come già avviene in alcuni Stati europei, in alcuni paesi europei. Ricordiamo la Francia, in cui la cittadinanza viene sostanzialmente regalata anche alle persone di seconda, gli extracomunitari di seconda o terza generazione. E poi dove li troviamo questi cittadini? Li troviamo magari a fare l'attentato a Charlie Hebdo. Erano cittadini francesi, eppure evidentemente non condividevano i valori fondanti dell'Europa. Noi riteniamo che sia assolutamente fondamentale per il proseguo della nostra comunità porre dei punti fermi. E questo non significa essere razzisti o xenofobi. Noi riteniamo che se una persona viene in Italia e ritiene che comunque non valga il diritto civile o le nostre tradizioni costituzionali, ma valga il diritto islamico della sharia. Beh, non può diventare cittadino italiano. Non lo vogliamo noi, un cittadino italiano così fatto. Secondo noi, se in Europa girano persone che ritengono o che aderiscono alla parte più integralista dell'Islam, non devono restare qui. Appena presi vanno rimandati dai paesi in cui provengono. Ma se uno è cittadino italiano, perché questo è stato stabilito alla nascita, beh, noi queste persone dovremo continuare a tenerceli qui. Ma oggi in Europa abbiamo bisogno di tutto, tranne che di persone di questo tipo.